Buongiorno a tutti. Con l'improvvisa e poco cauta pubblicazione della nuova ordinanza che regola la procedura hanno preso il via le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020-2021. La nuova procedura presenta problemi vecchi e problemi nuovi. Tra i problemi vecchi purtroppo ancora irrisolti abbiamo il mancato riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'assistenza al genitore disabile, l'impossibilità di valutare il servizio specifico preruolo per i docenti immessi in ruolo sul sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale per passare sul posto comune, il mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato nella scuola paritaria, il mancato riconoscimento del servizio militare prestato in costanza di nomina. Come dicevo accanto a questi problemi vecchi si presenta un nuovo problema. Infatti la legge di conversione del decreto scuola 126-2019 ha modificato il testo unico della scuola reintroducendo il blocco quinquennale per i neoassunti. Significa che per tutti i docenti assunti con decorrenza dall'anno scolastico 2020-2021, a prescindere dalla graduatoria dalla quale vengono individuati, potranno chiedere trasferimento su altra sede solo dopo il decorso di 5 anni di servizio nella sede iniziale. Questo abbiamo detto per i docenti immessi in ruolo dal 2020-2021, quindi per tutta la restante categoria di docenti immessi in ruolo fino al 2019-2020 è ancora consentita la possibilità di chiedere trasferimento senza vincolo. Però c'è un'eccezione e veniamo al nuovo problema. Infatti il decreto 59-2017 è stato modificato nel dicembre 2018 con una previsione che ha introdotto un vincolo quinquennale per una sola categoria, ossia per i docenti inseriti nella graduatoria di merito del FIT immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019-2020 è stato previsto un vincolo quinquennale prima di poter essere assegnati ad altra sede scolastica. Quindi si tratta di un'unica categoria di docenti appunto immessi in ruolo nel 2019-2020 per i quali in sostanza viene anticipato il blocco quinquennale che entrerà a regime solo per i nuovi immessi in ruolo dal 2020-2021. Si tratta di una evidente disparità di trattamento se si pensi che tutto il restante personale immesso in ruolo fino al 2019-2020 non incontra nessun vincolo nella mobilità, nemmeno anche gli altri docenti immessi in ruolo sempre dalle stesse graduatorie del FIT fino al 2018-2019 non incontrano nessun vincolo. Quindi si pone una evidente discresia tra una stessa categoria di docenti, cioè coloro che hanno partecipato al FIT sono inseriti nella stessa graduatoria regionale di merito, solo che coloro che sono stati assunti entro il 2018-2019 non incontrano nessun vincolo per la mobilità e coloro che sono stati assunti con decorrenza 2019-2020 incorrono nel blocco quinquennale e sostanzialmente vengono ingiustamente penalizzati. Si tratta, a nostra parere, di un evidente profilo discriminatorio perché tratta in maniera differente, totalmente differente, due categorie sostanzialmente identiche di personale ed è un problema che con molta probabilità finirà davanti la magistratura del lavoro che anche questa volta dovrà trovarsi di fronte ai problemi creati dalla mobilità per il personale docente. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.